Lettura di uno stato d'animo, memoria del tempo e comportamenti urbani nel mondo comunale italiano di Renato Bordone, pubblicato da Firenze University Press per reti medievali. Disponibile in download al link in descrizione. Parte seconda, modelli di comportamento urbano nella prima età comunale, capitolo 2. Un corpo di costumi. Agli albori dell'età comunale, le città del Regno d'Italia sembrano avere ormai sviluppato coscientemente degli ideali di decoro urbano, nutriti dalla rivalutazione della cultura classica, che propongono modelli generali di comportamento definibili cavalleresco-cortesi. In questo senso, la cultura cittadina italiana si inserisce in un ben più vasto movimento europeo, dove l'elaborazione di tali valori costituisce forse uno dei tratti più caratteristici e duraturi della cultura medievale. Valori di cui appaiono essere portatrici le élite sociali che, a seconda delle differenze locali, emergono nelle diverse aree geografiche di Europa. Da questa constatazione possono nascere gli equivoci che in un passato recente sembrano avere in alcuni casi orientato l'interpretazione della cultura cittadina italiana, presso chi ha ritenuto che un tale atteggiamento derivasse dall'importazione di modelli elaborati all'esterno delle città da ambienti aristocratico-feudali, in opposizione a quelli mercantili borghesi che avrebbero invece connotato la società urbana. Al contrario, lo spazio storico cittadino non si ridusse mai in Italia a un puro luogo di transito e di affermazione della nobiltà feudale che già controllava e governava il territorio della campagna e che in città avrebbe esteso e diffuso i suoi costumi. Ma proprio alla composita società cittadina si deve l'elaborazione di un modello culturale complesso, soggetto a stimoli di natura diversa, che soltanto nel vivace ambiente urbano potevano trovare un'omogenea sistemazione. L'aristocrazia urbana autoctona, infatti, pervenne al medesimo livello di elaborazione raggiunto altrove dalle corti, pur muovendo da un sistema economico profondamente diverso, senza rinnegarlo e anzi ponendolo fondamento della propria superiorità sociale. E in questo consiste la differenza, al di là delle enologie, fra la cultura cittadina italiana e la cultura feudale. Lo straordinario sviluppo commerciale conosciuto dalle città italiane proprio a partire dalla metà dell'undicesimo secolo, necessario supporto ai successivi sviluppi politici, ha lasciato infatti tracce non indifferenti non solo nelle fonti documentarie, ma anche in quelle fonti di mentalità nelle quali si va delineando il nuovo spirito cittadino ispirato all'urbanitas cortese. Si prenda il caso di Pisa, dove il culto della Romanitas ne appare la più immediata matrice. Proprio nel Carme del 1087, l'anonimo cantore delle virtù belliche pisane non dimentica di ricordare come conseguenza dell'impresa di Maridia e di Zawila l'estensione doganale conquistata nel regno di Tamin, di cui già lo Schaube sottolineava l'importanza in sede di storia economica. Promotori di queste e di analoge imprese, d'altra parte, sono proprio i rappresentanti dell'aristocrazia cittadina. I visconti pisani ebbero un notevole patrimonio fondiario, ma non si preoccuparono di aumentarlo, perché i loro interessi erano in prevalenza rivolti al mare e parteciparono attivamente alle spedizioni militari per ottenere porti e basi commerciali nel Mediterraneo. Come loro, le principali famiglie che il Volpe definiva di aristocrazia consolare detenevano un'organizzazione navale modellata su dei consorzi gentilizzi, capaci tutti di armare per proprio conto e con i propri membri una o più navi che sono assieme arnesi di battaglia navale e mezzo di commercio. È sufficiente infatti sfogliare gli annali del Maragone per ritrovare ovunque nobile sviri che armano galee o che approntano flotte. La vicina Lucca del canto suo, sul finire dell'undicesimo secolo, poteva vantare per bocca di Rangerio che, fra le città della Tuscia, non c'è maggiore per ricchezza né per abbondanza di vino ed olio. Sono gli stessi anni in cui Enrico IV esentava i lucchesi dal pagamento di fodro e curatura da Pavia a Roma e dal ripatico di Pisa e del suo comitato. E un riferimento di Rangerio all'imitazione del cultus francigenarum che spingeva i lucchesi a portare stoffe di lana forestiera ci informa che il commercio cittadino si spingeva anche al di là delle Alpi. Analoga alla situazione pisana appare quella genovese. Anche qui, secondo la testimonianza di Caffaro, inteso a tramandare ai posteri le vittorie di Genova e l'alternanza dei consoli, ma anche le oscillazioni monetarie, la tradizione militare cittadina e gli interessi economici appaiono strettamente connessi fin dalla prima impresa in Terra Santa, dove il cronista ci mostra l'immagine eroica del console Guglielmo Captumalli che, armato solo di elmo, corazza e spada, incitava i genovesi alla conquista e subito dopo registra meticolosamente l'ammontare della preda secondo una mentalità che doveva certo essere corrente al momento stesso dell'impresa. Anche a Genova la tradizione militare si orienterà verso l'assunzione del cavalierato, tecnicamente inteso con i reti di addobbamento, come attesta il continuatore di Caffaro per il 1173. I motivi che spingono la Repubblica alla creazione collettiva di un centinaio di cavalieri sono spiegati con la necessità di fronteggiare e sconfiggere i vicini, spiegazione che consona singolarmente con quella data da Ottone di Fresinga per giustificare la consuetudine milanese di elevare alla milizia i giovani di estrazione sociale inferiore. Quali che fossero i motivi immediati collegati con l'espressionismo territoriale dei comuni alla metà del XII secolo, la dignità cavalieresca si inquadrava in un clima culturale e mentale ormai diffuso presso i diversi gruppi sociali che vivevano in città. Il prestigio che nel corso dell'XI secolo, ad esempio, aveva acquisito in città la categoria dei negoziatores è verificabile con evidenza a Milano, dove pure la presenza feudale di capitanei e valvassori attivi fra la cittadinanza era notevole. Nel 1035, infatti, il giudice Rialdo, Missus di Recorrado, tiene un placido a casa del mercante Pietro e, come rileva Cinzio Violante, nelle Costituzioni del 1067, stabilite dai legati della sede apostolica, i mercanti sono citati a parte, prima dei rimanenti cittadini che costituiscono il terzo Stato. Anche se l'Andolfo Signore pare ancora considerarli una categoria bisognosa di tutela, se, nell'elogio funevo dell'arcivescovo Riberto, questi viene indicato come protettore delle vedove, dei poveri e dei mercanti. La dimensione economica che aveva investito le città grazie all'attività del ceto mercantile, vivace e in piena ascesa sociale, non era comunque ignota agli intellettuali delle città lombarde che stavano elaborando i loro modelli di urbanitas cittadina. Il colto autore del Pergaminus, residente a Costantinopoli, con primarie mansioni di interprete e con fama di letterato, ci ha lasciato una lettera privata del 1130, nella quale, con pignoleria da contabile, ragguaglia il fratello Pietro, prevosto di Sant'Alessandro di Bergamo, dello Stato delle sue finanze, al punto che non è mancato chi ha ipotizzato una sua attività commerciale in Oriente. Mercante o no che fosse, tale pratica di contabilità si accompagna non casualmente con l'anfermazione di provenienza da gente bellicosa che si incontra mai disarmata né in pace né in guerra. Bell'esempio di connubio cittadino fra educazione cavalleresca e attenzione agli interessi finanziari, che non doveva certo sembrare contraddittorio in colui che, esaltando i costumi urbani, esaltava anche le ricchezze della sua città. La ricchezza dei prodotti esotici erano giunti attraverso il commercio diretto, esercitato da quei medesimi, o almeno da parte di loro, che si ispiravano a una concezione di splendore dell'esistenza. Splendore materiale, conferito dall'ostentazione delle ricchezze, che accompagnava però lo splendore dei costumi, l'urbanitas cortese e cavalleresca, che gli intellettuali mostravano come modello di vita, a una categoria non giuridicamente definita come quella feudale, ma socialmente affermata nel composito ambiente urbano. Effetto e causa a un tempo, lo splendore della classe dirigente era strettamente collegato alla concezione della civitas, alla sua autorappresentazione come ente di antica dignità e decoro, ornato di valore militare, cultura e ricchezza, che esigeva un comportamento particolare degno della propria tradizione. Questa città per suo costume fa uso di pellicce, di scoiattolo e di martora, di altri preziosi ornamenti e di vivande delicate. Sarebbe dunque per noi disonorevole se gli stranieri e i pellegrini ti vedessero irsuto e malvestito. Così, al principio del XII secolo, il prete Liprando rampogna amichevolmente il nuovo orcivescovo di Milano, Grosolano, che si presenta in abiti eremitici. Chi si esprime in questo modo è un personaggio austero, un martire della pataria che ha combattuto contro il rilassamento dei costumi del clero e la fierezza urbana che manifesta non appare certo in contrasto con il suo passato al nipote biografo, ma tanto è il decoro che la sede ambrosiana ispira fra i concittadini da richiedere costumi appropriati che riscuotano il rispetto e l'ammirazione degli advene e dei peregrini che giungono a Milano. Già nel 1059 Pier Damiani aveva avuto modo di apprezzare durante il sinodo di Milano l'ordine dei nobili chierici, il portamento delle persone, l'accuratezza delle vesti, nonostante i pregiudizi che, secondo Arnolfo, aveva in quanto filo riformatore. E, riferendosi ai tempi di Eriberto, l'Andolfo signore scriveva che i sacerdoti urbani durante le processioni dei santi sembravano vescovi, tanto risplendevano in ornamenti. L'arcivescovo Grosolano, dopo essere stato ripreso da Liprando, si adeguò rapidamente alle consuetudini milanesi, facendo uso di cibi raffinati e di vesti preziose. Il decoro delle vesti e l'abbondanza del cibo distingue i cives dai rustici, tant'è che nel 1335 la presenza a un sinodo urbano di alcuni personaggi vestiti di rozze pelle di pecora e insolitamente ersuti, suscita nei loro riguardi sospetti di eresia. Solo la penitenza, come quella imposta nel 1136 da Bernardo ai milanesi, può costringere i cittadini a vestirsi di laneis vilissimis, come per Giovanni Gualberto, che, quasi a segnare l'abbandono della condizione di vir militaris, vestiva indumenti sempre modestissimi o come metaforicamente viene presentato Erlenbaldo davanti al mondo vestito con abiti preziosi ma nell'ascondimento davanti a Dio con rustiche lane come un'eremita. Con le vesti preziose e i cibi deliziosi vale la pena di ricordare l'uso cittadino del vino. Ottone Morena raccontando con tinte drammatiche l'esodo dei lodigiani dalla città distrutta dai milanesi e il loro rifugiarsi a pizzighettone ha un'annotazione curiosa nel segnalare che molti cittadini ivi morirono per il mutamento di vitto e di bevande perché erano soliti bere del buon vino e non dell'acqua. Poco prima il corningista aveva evidenziato che con l'assoggettamento dei lodigiani ai milanesi erano stati costretti a pagare pur essendo stati i cittadini originari la stessa imposta che pagavano i peggiori contadini. Alla metà del XII secolo la contrapposizione gentile scives pessimi villani tendeva a sottolineare in modo inequivocabile l'atteggiamento con cui la città si distingueva dalla campagna ma la coscienza dell'incolmabile differenza si riscontra con frequenza già nelle fonti più antiche. Presso gli scrittori cittadini dell'XI secolo gli abitanti delle campagne appaiono malvagi incolti e ingenui Andrea Dastrumi nel sottolineare la decadenza del clero milanese elenca fra le categorie che i cattivi sacerdoti frequentano i nequan villici insieme con i tabernari e gli impi uxurari l'andolfo signore indica in un quidam rusticus nequissimus il personaggio che consiglia al re Lamberto di entrare in Milano con un inganno e addirittura commenta che il diavolo stesso parlava per bocca del malvagissimo contadino Arnolfo nel criticare la scelta fatta da Enrico III nella persona di Guido da Velate come arcivescovo gli rimprovera di aver preferito al nobile saggio clero del primo ordine un ignorante che veniva dalla campagna l'ingenuità degli sprovveduti pellegrini della campagna è poi messa bene in evidenza da Bonizzone quando osserva che la massa del contadiname Lombardo abbacinata dallo splendore con cui si presentavano i mansionari li riteneva sacerdoti e si affidava alle loro preghiere e per ben due volte l'Andolfo Signore non manca di rilevare che gli erronei fondamenti dell'eresia monfortiana avevano fatto presa sui contadini venuti in città per vederli e sugli abitanti del suburbio irretiti dalle strane e diverse dottrine non senza sottintendere probabilmente un collegamento con i primordi della pateria predicata da Arialdo presso Varese alle popolazioni contadine l'afflusso dei contadini in città denuncia l'attrazione commerciale e sociale che essa non solo ha continuato a esercitare ma che nel corso dell'undicesimo secolo rafforza assumendo quel ruolo di centralità territoriale pienamente realizzato nel successivo nessuno traccia oltre che i passi ricordati per Milano il riferimento della historia custodum ai rustici depredati dei loro sacchi di frumento mentre si trovavano nel mercato urbano di Arezzo circa alla metà del secolo o mentre si recavano in città ob devoziones e l'attestazione dello pseudobardone della consuetudo degli abitanti del contado di recarsi solennemente in processione a Mantova con vessilli e immagini sacre in occasione delle litanie gregoriane la consueta frequentazione della città favorisce il confronto fra i due mondi quello urbano e quello rurale evidenziandone le differenze dai cives è accordata ai rustici nella migliore delle ipotesi una sorta di condizione di minorità come si può ricavare proprio dalla storia dei custodi di Arezzo che li equipara alle donne nel descrivere le vittime inermi della rapacità dei custodi per contro ancora una volta emergono dal confronto le caratteristiche tipicamente cittadine assenti nella condizione dei rustici l'autodifesa di fronte alla loro vulnerabilità la cultura di fronte all'insipienza l'astuzia di fronte all'ingenuità le buone qualità morali infine di fronte all'anequizia abbiamo visto qual è l'atteggiamento della classe dirigente cittadina nei confronti di coloro che non risiedono in città domandiamoci ora quale sia inversamente il giudizio che l'ambiente extraurbano formula nei confronti dei cives le attestazioni a questo proposito sono molto più scarse proprio perché la detenzione degli strumenti culturali è in italia un fenomeno principalmente urbano e per questo periodo si riducono in definitiva alla sola voce del monaco Donizone da Canossa biografo della contessa Matilde la cui opera nel contesto della più o meno coeva produzione di contenuto storiografico dell'italia centrosedentrionale presenta in dubbi aspetti di singolarità per non essere dettata dal sentimento civico ma da quello dinastico oltre ai numerosi giudizi sparsi nel poema sui quali torneremo fra breve vale la pena di prendere le mosse dal garbato contrasto inserito nel libro primo si tratta secondo l'ermini di una sorta di gara cortese o contrasto a dialogo fra Canossa e Mantua a proposito della salma del marchese Bonifacio tumulata nella cattedrale della città e pretesa da Canossa che rimprovera a Mantua di aver rapito quel venerando corpo del quale essa sola aveva diritto di essere custode l'ermini ipotizza che per tale altercazio Donizone abbia tratto spunto da presunti affreschi murali che decoravano la chiesa monastica di Santa Pollonio nei quali città e castello sarebbero stati rappresentati in sembianze muliebre come nel poema in qualunque modo stia la questione l'altercazio rappresenta un'eccellente testimonianza della realtà cittadina vista dalla parte del mondo extraumano non certo quello dei rustici perché Donizone è un intellettuale ma quello dell'aristocrazia territoriale e della cultura monastica se poi come afferma Chiara Furgoni del tutto di maniera sono gli argomenti che le due città presentano è tanto meglio perché riflettono non solo l'atteggiamento dell'autore ma dell'intero ambiente come appare caratterizzata Mantova nella mente del monaco canosino città io vengo chiamata tu semplice rocca o canossa in me vivono molte persone posseggo molte ricchezze o povera stolta anzitutto anzitutto il nomen un nome prestigioso che si contropone a quello di semplice rocca o castello e infatti canossa risponderà ammettendo che Mantova detiene quel nome ma non vi fa corrispondere un honor adeguato giustificato dal triunfus militare autonomo perché necessita di qualche alleato che la difenda e infine perché non c'è solido muro che ti circondi dignità del nome nel aspetto militare difensivo e offensivo appaiono dunque i primi elementi di individuazione che vengono valutati da chi abitando in una fortezza è uso giudicare con criteri militari non contestata appare invece l'affermazione relativa alla densità abitativa e alla ricchezza altri elementi di distinzione rispetto all'Arx ti supero per la mia chiesa che un preso l'eretto arricchi dove armonioso risuona il canto del coro dei preti e in cui sono assai venerate molte sante reliquie la terza caratteristica è dunque il richiamo religioso la cattedrale con il suo vescovo la magnificenza della liturgia l'abbondanza di reliquie canossa non contesta queste affermazioni ma si presenta sotto lo stesso aspetto come meglio dotata ottenendo il riconoscimento della via rivale che parebbe ritirarsi in buon ordine se non che all'invito a cantare con canossa le lodi del marchese bonifacio mantova sfodera l'ultima prerogativa quella culturale municipalistica affermando di aver dato i natali a virgilio da qui la reazione di canossa che rispolvera una vecchia leggenda secondo la quale virgilio scacciato da mantova si sarebbe rifugiato nelle selve canosine ora al di là degli intenti polemici appare con evidenza come si configura fuori dalla città l'immagine della città e come tale immagine nonostante i tentativi di minimizzare le differenze si distingua da quella della semplice arcs dignità si potrebbe dire istituzionale mura ricchezza di uomini e di possibilità economiche sede vescovile fasto liturgico reliquie glorie culturali tale quadro sostanzialmente positivo si arricchisce poi di motivazioni moralistiche che fornendo quasi un polemico pendan con la svalutazione degli abitanti della campagna da parte delle fonti cittadine gettano su luce sul moto di essere dei cives giudicando negli aspetti reputati negativi c'è da premettere che Donizone rappresenta come ha rilevato Mario Nobili l'ideologia del principato modellandola sugli atteggiamenti della contessa e che a detta della fasoli Matilde non amava molto risiedere in città e questo le rendeva meno facile la comprensione della mentalità e delle necessità dei centri urbani neanche il poeta pare amare la città e comunque le giudica sempre in relazione alla dinastia così Parma è stulta nonostante sia sede di studi superiori perché si oppone a Bonifacio e oscurata da molti peccati perché è filo imperiale mentre Matilde è gregoriana Mantua è crudelis perché non obbedisce mentre al di fuori della marca appare nobile e popolosa in quanto non si sottomette Enrico V nemico della contessa ciò premesso almeno due passi assumono tuttavia un significato originale quello che riferisce lo stupore del poeta di fronte al cosmopolitismo di Pisa e quello che attesta la dialettica interna del ceto dirigente di Mantua nel primo caso deprecando che Beatrice sia stata sepolta a Pisa Donizzone commenta che chi si reca in quella città vede i mostri marini sebbene Giallo Schauber rilevasse che la nomenclatura con cui sono disegnati i saraceni che frequentano la città per motivi commerciali non deve essere presa sul serio dall'atto etnografico il riferimento alla molteplicità dei contatti derivata dall'intensa trama di relazione intessuta dai mercanti pisani è significativo per caratterizzare l'ambiente di una grande città di mare agli occhi di un montanaro già i Versus Epo Redienses probabilmente esercitazione scolastica di un chierico di Ivrea databili attorno al 1070 1080 decantavano il grande splendore della città indicando con ricchezza di reminiscenze classiche uomini d'ogni razza confluenti nella fiera cittadina ma mentre il chierico aveva dichiarato che nessun uomo conosce un soggiorno si bello Donizone rileva invece lo scandalo di tale promiscuità concludendo proprio non conveniva cercare città non fidate ove tanti delitti si compiono promiscuità disordine morale mancanza di fedeltà sono colpe specie l'ultima che non riguardano soltanto le città di mare ma le città in genere quei cittadini sono troppo avvezzi a vivere nell'infedeltà giudica infatti il poeta rivolgendosi a Mantova che come iuda mercato ha tradito la sua signora per 24 anni e si è rifiutata di servirla e ora nel 1114 che si è sparsa la falsa voce della sua morte si appresta a rinnovare il tradimento precedente ma la contessa è viva e prepara un esercito per vendicarsi dei fedifraghi cittadini quando queste notizie si spassero in fretta per la città che è ricca di uccelli ma la gente divisa in tre parti si misero tosto a discutere e a cervellarsi su che fare è meglio accettare la guerra diceva la parte più accanita voi sapete che bene siamo usi a difendere le mura ma la parte più misera voleva andarsene fuori altre invece respinsero queste proposte giudicandole stolte salzò allora la parte migliore e parlò ai giovani della città Donizone ricorre a una cittazione virgiliana per schernire la leggerezza dei cittadini e il loro dividersi in partiti una fazione opta per la guerra appellandosi alle tradizioni militari di difesa cittadina l'altra minaccia di abbandonare la città la Pars Melior secondo Donizone si pone come mediatrice convince Juvenes ad esistere dagli intenti bellicosi e apre le trattative che si concluderanno con un generale giuramento di fedeltà la difformità delle opinioni la dialettica interna il formarsi di partes sono dunque altre caratteristiche che non sfuggono all'osservatore extraurbano d'altro canto nei medesimi anni anche il cronista urbano Landolfo di San Paolo registrava la contrapposizione in Milano dei grosulaniste e dei giordanisti che a volta a volta si guadagnavano il favore dell'instabile plebs urbana quel populus mediolanensis pur di natura nobile e religioso che tuttavia è detto non senza ragione leggero e vano e pronto ad assumersi qualsiasi novità della vivace curiosità per le novitates come caratteristica della mentalità urbana si erano già resi conto Andrea Dastrumi quando osservava a proposito del consesso antipaterinico che segue la vittoria di Erlenbaldo che la turba popolare cambia in fretta opinione e facilmente si orienta verso partiti diversi Rangerio rilevando i timori d'Anselmo per l'urbanam mutabilitatem dei lucchesi e Arnolfo nel sottolineare che per suo costume il popolo non permane a lungo della medesima opinione per un anime consenso di osservatori esterni e interni al di là del giudizio moralistico in cui veniva presentata la rapidità della circolazione delle idee appare dunque la maggiore prerogativa della vita cittadina sollecitata da stimoli provocati dalla frequenza dei contatti degli abitanti fra loro e con chi proviene da fuori se è lecito per il medioevo usare a scopo di pura comparazione i suggerimenti di un sociologo della Grostad contemporanea si può dire con il simmel che la base psicologica del tipo di personalità caratteristico della società urbana consiste nell'intensificazione delle stimolazioni nervose che derivano da mutamenti rapidi a differenza di quanto non accada per la vita rurale la città esige dai suoi abitanti maggior prontezza nel rispondere agli stimoli più numerosi che altrove chi come Donizone è straneo a tale mentalità non può comprenderla così nel caso dei mantovani il rapido formarsi di opinioni il confronto e la pronta scelta di una decisione ancorché vivacemente discussa fra le parti gli appaiono segni di confusione e di disaccordo interno e non conseguenza di un'attitudine a elaborare in modo dialettico soluzioni in tempi brevi in questo senso infatti io penso vadano interpretati i riferimenti dei cronisti alla curiosità verso le idee nuove alla formazione di orientamenti diversi e infine alla rapidità con cui gli urbani sembravano mutare d'opinione la diversità nonostante tutte le diffidenze che può suscitare non manca tuttavia di esercitare il suo fascino sui non urbani un fascino che si manifesta nell'incontestabile attrazione che la città esercita sulla campagna che è anche come si è visto di carattere economico legata allo sviluppo del mercato urbano ma non è soltanto questo in città i rustici vengono conoscenza delle novità come nel caso delle dottrine eretiche dei monfortiani in città vengono per consumare la solennità di riti che nelle campagne non hanno riscontro come le litanie gregoriane di Mantova per gli abitanti del suo contado che vi si recano in processione l'aspetto religioso non è secondario né veniva sottovalutato dai contemporanei nell'altercazio fra Canossa e Mantova anzi era stato uno degli elementi di vanto non contestato dalla città insieme con la connessa custodia delle reliquie il culto del santo patrono caricato di tutte le valenze di autorappresentazione e di identificazione cittadina che le numerose ricerche svolte sull'argomento hanno da tempo messo in luce si esplica infatti con manifestazioni che coinvolgono in primo luogo l'intera collettività cittadina all'insegno della solennità elevata ad autentica consuetudine urbana fin da questi primi anni gli esempi appaiono numerosi ad Arezzo per esempio nell'undicesimo secolo era usanza accendere grandi ceri a San Donato nei giorni festivi nelle festività di Santo Stefano titolare della chiesa episcopale e a Pasqua tutti i cittadini sono soliti venire alla messa maggiore e offrire grandi candele per onore e devozione fastosa è la rappresentazione milano delle cerimonie nelle feste dei santi a cui partecipano tutti i laici fatta dall'andolfo signore mentre l'andolfo di San Paolo ci descrive l'istituzione di una festa religiosa in occasione del ritrovamento di reliquie che prevede una processione generale a cui partecipano insieme con i sacerdoti e il clero al completo tutto il popolo e ogni ordine dei laici e l'istituzione di un mercato annuale garantito da una pace di Dio di 15 giorni per consentire a tutti la partecipazione a tale solennità per Pisa sappiamo dal libera maio rikinus che i cittadini anche durante la campagna anti saracena non rinunciarono a celebrare come d'uso la festa di San Matteo e per tutta la notte suonano a distesa i campanelli le occasioni straordinarie accentuano poi il tono delle celebrazioni è il caso della ricostruzione della cattedrale di Modena già all'inizio dei lavori avviene durante la solennità dei santi primo e feliciano con lodi inni e canti con candele e lampade con una moltitudine di uomini e di donne con tutto l'onore e la lode di una devota processione ma è soprattutto per la consacrazione della cattedrale che la città raggiunge il massimo della spettacolarità realizzando un tutto esaurito accuratamente preparato con un'ampia diffusione della solennità in tutta la diocesi e non solo alle città della stessa provincia ecclesiastica ma anche a quelle vicine ciò che colpisce non è tanto la partecipazione in massa a tali manifestazioni quanto la frequenza e l'attenzione con cui i cronisti tendono a segnalarle come testimonianza sì della religiosità dei loro concittadini ma anche dell'importanza e del decoro della loro città d'altronde le segnalazioni di solenne celebrazioni urbane da parte di cronisti nel principio del XII secolo non riguardano soltanto occasioni religiose ci sono fasti civili descritti in termini analoghi di almeno due tipi c'è anzitutto l'accoglienza in città di personaggi importanti primo fra tutti l'imperatore un'occasione tradizionale di incontro che contribuisce a glorificare la città e ci sono i festeggiamenti per le ricorrenze di vittorie militari rinnovati annualmente con solennità per entrambe le cerimonie si tende a usare il termine triunfus che saremo tentati di mettere in relazione con l'influsso esercitato dalla rinnovata fortuna della tradizione classica Donizzone che pura cittadino non è ricorda come Enrico V fosse accolto a Roma dal Papa dal clero e dalla plebs con molte fiaccole che mandano un grande chiarore e che in suo onore secondo un antico costume si fa una processione lunghissima coperta dalle monete che lancia il sovrano mentre l'andolfo di San Paolo per un analogo ingresso in Milano di Corrado III parla di ecclesiastica pompa e civili triunfo considerata la descrizione della cerimonia fatta dal poeta di Canossa è forse possibile che l'antico amore si riferisca proprio al civilis triunfus degli antichi romani né forse a un caso la diffusione di questo termine a Pisa particolarmente romanizzante in questo periodo per il poeta del maiorichinus nel giorno di San Sisto ricorrenza di diverse fortunate campagne militari i pisani dei punici sottomessi con la forza gli annali celebra i trionfi con l'ode votiva e al trionfo già si riferiva alla lapide del duomo relativa alla vittoria di Palermo del 1066 riportata anche dal Maragone che del termine fa ampio uso negli annali di cui basti qui ricordare soltanto l'accoglienza riservata dai pisani al duca Guelfo nel 1160 cum magno onore et triunfo et processione della spettacolarità delle cerimonie in questi anni seppur in area geograficamente diversa si è recentemente interessato Salvatore Tramontana a proposito dell'effimero nella Sicilia normanna se come afferma l'autore ogni messa in scena si faceva carico del recupero globale dell'intensità emotiva della gente feste religiosi e civili delle città dell'Italia centro-settentrionale a differenza di quanto accadeva nella Sicilia normanna non si presentavano tanto come ricerca di simpatia e consenso da parte dei detentori del potere quanto piuttosto come autoaffermazione della dignità connessa con la condizione urbana c'era certamente qui come in Sicilia una componente politica gestita con consapevolezza dalle classi dirigente nel processo di aggregazione fra vita quotidiana e potere ma il messaggio ideologico contenuto nella teatralità degli spettacoli urbani forse non tanto mirava a ottenere una legittimazione quasi sacrale delle istituzioni quanto a celebrare e a ribadire una condizione generale a ravvivare un patriottismo collettivo che al tempo stesso distingueva la città dal resto del territorio e quella specifica città dalle altre si trattava in altre parole dell'elaborazione di un modello di città come personaggio realizzata con il ricorso a tutti gli strumenti di comunicazione e di persuasione disponibili e rivolta all'intera collettività degli abitanti feste religiose processioni luminari e trionfi accoglienza di imperatori ludi militari avvengono infatti con la partecipazione complessiva di laici ed ecclesiastici della città quasi tutta la città annota Andrea Dastromi va incontro al corteo che riporta triunfalmente in Milano il corpo santo di Arialdo e specifica matrone nobili e non nobili che portano numerosissimi ceri fanciulli e anziani chierici pubbliche calamità e penitenze sono presentate in maniera analoga ecco che Milano tutta irino ridisce attonita dichiara Arnolfo alla notizia della cattura dell'arcivescovo Ariberto da parte di Corrado II e l'Andolfo Signore e numero a coloro che per tale sventura fanno penitenza tutti con cittadini milanesi giovani e vecchi sacerdoti chierici e matrone nobili e monache deposto ogni ornamento alla notizia della sua fuga e del suo ritorno tutta la città partecipa così allegra che nella correre per la gioia non cede il servo al padrone la donna all'uomo la dimensione collettiva della partecipazione sia nel fletus sia nella letizia è l'aspetto più evidente in entrambe le narrazioni ma in Arnolfo come in Andrea la civitas stessa o l'urbs viene personificata come entità superiore alle sue singole componenti che realmente ciò avvenisse rispondendo a una effettiva domanda della società o che l'aspetto collettivo fosse enfatizzato dalla retorica dei cronisti il significato da attribuire alla descrizione di questo tipo di partecipazione in definitiva non muta poiché si tratta in ogni caso di un chiaro intento di auto-identificazione con il ricorso a una precisa ritualità urbana che si esprime con la solennità del comportamento comunitario in tutte le occasioni della vita sociale così anche la sfera del privato assume in ambito urbano una caratterizzazione sociale ne espia l'indignazione riformatrice di Andrea che rimprovera i milanesi di celebrare solennemente le nozze anche durante l'avvento e di prendere moglie addirittura alla vigilia di Natale se per caso capita di domenica sicché i paterini intervenivano a far sospendere la cerimonia il giorno stesso delle nozze quando è Roma è tutto pronto quanto si suole preparare per le nozze dove non è difficile scorgere la cura che le famiglie degli sposi ponevano nel preparare quella solenne evenienza il fasto delle nozze cittadine appare anche in altri cronisti più tardi il cui interesse è tanto più significativo in quanto di solito in prevalenza rivolti a narrare vicende politico-militari si vede a tal proposito la descrizione fatta da Maragone di una serie di matrimoni solenni celebrati a Pisa nel 1180 in un caso per 20 giorni di grandissima corte di cittadini e di forestiere di uomini e di donne un irificante tendono in un'altra la festa dura nove giorni con grande onor da e soldati e da tutto il popolo con laude grande e trionfo si tratta ancora una volta del tema della solennità e della vasta partecipazione popolare secondo un preciso stile di vita cittadino che discende direttamente da una tradizione culturale militare del ceto dirigente quello che abbiamo in precedenza individuato come caravalleresco cortese l'espressione grandissima corte usata dal cronista pur nella traduzione duecentesca che c'è rimasta non appare dunque casuale se poi l'attestazione può apparire un po' tardiva rispetto allo svolgersi dei caratteri originali della cultura urbana un episodio riferito agli annales mediolanenses ci riporta all'età di ottone di frisinga narra il cronista che durante la campagna del 1156 un esploratore nemico entra nel campo dei milanesi e viene accolto con grande munificenza sicché tornato dai suoi mirabilmente lodò la fedeltà e la sapienza e la cortesia dei milanesi non sfugge l'importanza del termine curialitas che bene si inserisce confermandolo nel significato che abbiamo attribuito alla grandissima corte pisana la curialitas che alla metà del XII secolo è propria dei milanesi è una caratteristica tipica delle città italiane perché coincide con l'urbanità dei costumi ricordata da ottone di frisinga e presenta attestazioni sufficienti sia nel letto scavaleresco della classe dirigente sia nella solennità delle manifestazioni sociali collettive e private non è Sibadi appannaggio di una sola singola città ma consuetudine di tutte le città in quanto tali un mondo che afferma una sua identità di comportamento in modo solidale i lodigiani che si recano presso Federico perché oppressi dai milanesi si dolgono infatti di essere stati privati delle loro prerogative non in quanto abitanti delle città di Lodi bensì in quanto si ritenevano antichi e nobili cittadini di Lombardia la curialità è anche un modo di affermare la propria identità e la propria importanza utilizzato dal mondo cittadino quasi per porsi in parallelo in concorrenza con la corte propriamente signorile o regia al personaggio dinastico celebrato ad esempio da Tonizzone la cultura urbana sostituisce il personaggio città secondo un meccanismo che l'ente comunale farà proprio anche in campo politico istituzionale presentandosi come signore collettivo nel primo 200 anche un centro relativamente modesto come Tortona potrà dichiarare che la propria autonomia gli deriva dall'essere civitas nobilis et antiqua proprio come già nella metà del secolo precedente i leodigiani potevano vantarsi di essere veteres et nobiles cives in questa prospettiva si spiegano le manifestazioni di un orgoglio cittadino che affonda le sue radici in un'elaborazione culturale di elementi tradizionali e nella rivalutazione del patrimonio classico nell'ideale di vita nobile esplicitato dalla curialità dei modi ma di natura intimamente morale la singolarità rispetto agli altri assetti presenti nella società medievale consiste nella dimensione collettiva con la quale la città idealmente si presenta sicché l'elogio encomiastico in questo caso non è rivolto a una dinastia bensì alla totalità degli abitanti in quanto loro stessi civitas secondo la ben nota definizione di Isidoro e tale atteggiamento è già palese nella seconda metà dell'undicesimo secolo un momento di feconde elaborazione degli elementi che caratterizzano la civiltà urbana se l'andolfo signore nell'indicare un modello ideale da contrapporre al disordine contingente accanto all'elogio dell'arcivescovo ci presenta l'elogio dei cives del passato prima ancora che il barbarossa scende in Italia le città non solo hanno sviluppato e raggiunto piena consapevolezza di essere un altro mondo rispetto al resto del territorio ma ritengono di aver realizzato ispirandosi alla classicità un ideale di decoro civile e di urbanità dei costumi che le distingue anche dagli altri potentes del regno quanto cittadina appare in questo senso la battuta polemica del vecchio caffaro che è costume dei marchesi voler rubare piuttosto che vivere secondo giustizia vivere secondo giustizia con eleganza di modi e con valore militare come appartenenti a una comunità che fonda il suo prestigio sull'antichità di tradizione religiosa e civile e rappresenta dunque il modello di comportamento urbano che viene proposto all'interno all'immaginario dei concives e all'esterno all'osservazione dei non cittadini come Ottone di Fresinga e come Romualdo di Salerno che nel 1177 caratterizzerà i Lombardi come coraggiosi in guerra e mirabilmente dotti nel parlare al popolo